allora ciao a tutti ragazzi benvenuti oggi vi farò vedere delle case che io ho visto negli altri video vuoi vederli? allora questa già la sappiamo guardate questa già la sappiamo guardate oh bellissima qua c'è la cucina tutto è bella grande e qua c'è la camera da letto ovunque la camera da letto iscrivetevi pure al mio canale vi aspetto